Si attestano quota 377 nuovi contagi da Covid rilevati nelle ultime ore in regione, il 12,93% dei 2.916 tamponi eseguiti. Delle nuove positività odierne, 70 afferiscono peraltro test progressi eseguiti in laboratori privati. Dati quindi molto contenuti sia sul fronte dei contagi che dei tamponi effettuati, come del resto accade ogni lunedì. Non si può dire però lo stesso sul fronte delle vittime. Sono 27 decessi registrati che portano il totale da inizio pandemia a 673. Sette dei morti hanno dei 90 anni in su, mentre 11 sono over 80. A questi si aggiungono tre 79enni deceduti in ospedale, uno di Codroipo, uno di Trieste, uno di Coseano, un 77enne di San Giovanni Annatisone deceduto in casa, un 75enne di Roveredo in piano e un 65enne di Paolaro, entrambi ispirati in ospedale, e un 45enne di Duino Aurisina, affetto da precedenti patologie, morto in ospedale. I casi attuali di infezione sono tra 10.457. Se scendono a 55 pazienti in cura in terapia intensiva, salgono a 565 quelli ricoverati in altri reparti. Per quel che riguarda le nuove positività al virus, nel settore delle residenze per anziani, sono stati rilevati 23 casi tra gli ospiti e 10 tra gli operatori. Anche nelle strutture ospedaliere aumentano i positivi. Nell'azienda sanitaria universitaria a Friuli Centrale sono stati contagiati un infermiere, due osse e un medico. In quella a Friuli Occidentale un infermiere, in quella a Giuliano Isontina un infermiere, un tecnico e un osse. A Sugi ha comunicato la presenza di due insegnanti e sei alunni nella scuola primaria di Sgonico, la cui positività è stata rilevata dopo il test antigenico rapido. Sono stati quindi posti in quarantena, fino al 30 novembre, tutti gli alunni e i docenti della scuola elementare e sono stati eseguiti tamponi molecolari su chi aveva sintomi. A Fagagna il sindaco Daniele Chiarvesio segnala con grande preoccupazione che i positivi sono 50, con una forte impennata nella struttura per anziani e con diversi casi nelle scuole.